Ma è tornato, senti, ma come mai? C'è stato un cambio di gilet, eh? Questo gilet scozzese, io ero abituato al bianco e al nero. No, Paola, ma te la devo dire tutta, perché se no poi dopo... La verità è un'altra. Devi ringraziare l'autore, devi ringraziare. Perché io mi ero vestito tutto da scozzese, pure corgonnellino. Poi mi ha detto, lui non vorrei guardano le gambe tue invece che quelle... Paola a me non mandava. Ah, per questo? Ma anche per il programma proprio, non volevo creare chi guardavano a me e non guardavano poi il programma. Eh beh, quindi tu l'hai fatto per me, per non farmi fare brutta figura. Sì, ho delle gambe affusolate, mica sulle gambe ci ho affusolate, del fuso ci ho... No, dico il senso... Anche l'impol cervello. Non lo so, è il periodo... Non è facile guarda. Senti, ci ascoltiamo subito una bella canzone del 1977, la canzone più dolce, un evergreen proprio, eh? Sento, come una fiamma che viene su. Ma chi la canta? Gianfranco Caliendo, Flora Contento, Miele!